E lezioni, ecco chi si candida, settimane frenetiche per la definizione delle liste nei 34 comuni piacentini chiamati al voto il 25 maggio. Ancora poche l'ufficializzazione per le europee, spesa ridotta del 25%, seggi spartani e pochi straordinari. Cade in bici e in fin di vita è accaduto a Rustigazzo, un 54enne di Ponte Nure era in compagnia di altri ciclisti quando è rimasto vittima di una caduta accidentale e le sue condizioni sono molto gravi. L'ite sul pullman finisce a botte in strada, un diverbio tra due giovanissimi iniziato sull'autobus di scuola è degenerato in piazza Cittadella, a farne le spese un ventenne che si è preso un pugno, l'aggressore un diciassettenne è stato denunciato. Marchiatura delle bici anche a Fiorenzuola, l'iniziativa si terrà ogni secondo sabato del mese e costerà 3 euro a timbratura. A Piacenza ne sono state fatte circa 750, è stato un flop invece il progetto Mi muovo in bici. Progetto vita vola in Giappone, a fine maggio medici piacentini illustreranno la rete di defibrillazione precoce al congresso giapponese di emergenza urgenza. L'ASL ha consegnato 8 defibrillatori alle forze dell'ordine.